Se non rispetterai il piano nei minimi dettagli, ucciderò tuo amore e poi ucciderò tua figlia. Ma se avrò quello che voglio, tu riavrai la tua famiglia. Meno ne sai, meglio sarà per te. Per i duri di rete 4. E torni rispondimi piccolo, dai! Bruce Willis, Hostage, stasera 21.15.